E dalla Serie C Silver saliamo, passiamo adesso al campionato di Serie B nazionale che ha cominciato domenica scorsa la sua prima giornata della stagione 2019-2020 per il Lions Basket Biceglie di Gigi Marinelli, riconfermato alla guida del Sodalizio Bicegliese, inizio di stagioni importanti con un bel 92-78 contro Sant'Antimo, dunque un percorso che per i ragazzi di Marinelli sarà particolarmente in denso con l'obiettivo quanto meno di voler centrare i play-off. Tra l'altro Lions Basket Biceglie è stato inserito nel girone D della Serie B che raggruppa un'altra squadra, anzi altre tre squadre pugliesi, il Pascal Nardò, il Basket Corato Adriatica e poi il Rubo di Puglia. E allora su questa partita Lions Basket Biceglie Sant'Antimo andiamo ad ascoltare il servizio da Biceglie di Vito Troilo. E allora su questa partita Lions Basket Biceglie di Vito Troilo.